Ho trovato questo video molto interessante perché parla di questa femminista che aveva sostanzialmente lineamenti molto mascolini e ha provato a vestirsi da uomo, a travestirsi da uomo per riuscire a capire quello che provava un uomo e vedere come veramente fosse trattato meglio dalla società rispetto a una donna. Dopo un anno e mezzo è arrivata ad uccidersi e suicidarsi perché ha capito che gli uomini soffrivano, tanto che veniva trattata male dalle altre donne soffriva tantissimo e la ragazza adesso spiega che voi uomini non fate emergere questa parte della vostra sofferenza dalla parte delle donne eccetera eccetera. Perché dovete dimostrare di essere più forti, di essere quelli alfa e invece dobbiamo essere sempre più vicini, più aperti e questo a me fa riflettere in realtà di quanto è necessario soprattutto nei paesi laddove almeno sulla carta abbiamo raggiunto la parità di diritti un percorso di riconciliazione fra i sessi, fra le donne, gli uomini e tutte le altre sfumature. Di genere che esistono di orientamento sessuali, di genere come vogliamo chiamarle in nome di un superamento definitivo della discriminazione e della violenza sotto tutti i suoi aspetti. La storia di cui si parlava nel video precedente è quella di Nora Vincent se non erro una scrittrice svizzera che ha chiesto giusto lo scorso luglio di essere l'assistenza per farsi per un suicidio assistito sostanzialmente dopo che questa prova di trasformarsi in un uomo l'ha messa duramente, cioè non riusciva sostanzialmente a riprendersi da quello che aveva vissuto. Probabilmente ci hanno influito anche altri aspetti, non voglio nessuno boccavalcare questa storia per altri motivi ma è una storia che sicuramente lascia riflettere di quanto sia oggi finalmente necessario superare la violenza e la discriminazione tra i sessi e non alimentare lo scontro che non porterà assolutamente a niente e soprattutto laddove come in Europa sostanzialmente abbiamo raggiunto al livello almeno di carta dei diritti gli stessi diritti e le stesse potenzialità. Adesso dobbiamo lavorare per le pari opportunità, indubbiamente fare un sacco di... ma io propongo di farlo con un percorso di riconciliazione e non di scontro e di guerra.